Oggi siamo qui a questo evento e abbiamo alte aspettative perché ci sono delle persone molto molto preparate che ci aiuteranno a mettere in discussione se il focus è corretto o va un attimo allineato quindi noi siamo stra contenti di essere qui e siamo convinti che questo percorso ci sarà molto utile. Avere dei prodotti che funzionano non è sufficiente bisogna riuscire a trasmetterlo al cliente. Questo appunto è uno dei motivi che ci hanno spinto a venire e a seguire questo interessantissimo percorso. Ho deciso di partecipare al Grow Design 2023 con tutta la mia squadra perché ritengo possa darmi gli strumenti per risolvere efficacemente il dialogo e la costruzione dei progetti. Pensiamo che sia giusto ogni tanto fare un passo indietro e trovare dei punti di vista nuovi, dei nuovi metodi anche innovativi per riuscire ad analizzare il business e scoprire magari nuovi percorsi da affrontare nella nostra crescita. Vendendo un prodotto per noi innovativo abbiamo bisogno di una consulenza e un supporto strategico per riuscire a organizzare il processo di vendita rivolgendoci a strutture complesse. Quello che vogliamo fare partecipando a questo progetto è cercare nuove opportunità di fondi, di conoscenze, di amici, di persone che sono interessate o che possono collaborare con noi, anche dipendenti se possibile. Ottimizzare le energie interne dell'azienda e focalizzarle su un obiettivo che è l'incremento del business, l'incremento della presenza sul mercato, cercare nuove opportunità e soprattutto acquisire anche un metodo di lavoro che ci permetta un miglioramento del nostro approccio sul mercato.